bella a tutti ragazzi bentornati in questo nuovo video oggi siamo qui con minecraft ragazzi potete vederlo bene ragazzi come avete visto come state vedendo in questo momento ho ancora mezzo cuore però ho 23 di legna sì perché off camera sono andato a prendere della legna perché se no non potevo continuare in video e ho preso anche delle bistecche di manzo crudo che andremo a cucinare in questo momento abbiamo pure del ferro e inoltre come vedete nel mio inventario ragazzi c'ho uno scudo e dite vabbè te lo sei craftato e ragazzi c'ho due due armature ok perché ho ritrovato lo scudo e l'armatura vecchia ok l'ho ritrovato non lo so su quale culo però l'ho ritrovato ed ecco è l'importante e direi di mettere a cucinare questo perfetto ma le sentite queste cose strane nel mondo perché ho paura io incomincio ad avere una certa tipo di paura però io direi in questo in questo episodio non ci stabiliremo qua perché andremo a cercare casa ok non è che andremo a cercare cosa è che vediamo incominciamo a vedere dei biomi che ci potrebbero piacere un posto dove mettere radici ok io spero che ci stanno i biomi belli perché ragazzi nella scorsa serie non va e gli altri pezzi di vabbè vabbè no perché c'erano degli altri pezzi di di oro però non so che fino hanno fatto e mi ricordo che erano molto di più ragazzi scudo alla mano andiamo a combattere eccoli i due pezzi di manzo ok e ci prendiamo pure il carbone d'altronde raga il carbone è carbone sempre spacchiamo questo ci prendiamo la fornace ok raga siamo tutto nell'inventario direi di mangiare dopo perché ragazzi la notte la notte la notte sarà un bel casino perciò direi di mangiare verso la notte anzi me lo mangio molto che lo so sto cambiando l'idea è molto strana ragazzi le torce però me le prendo anzi lo sai che no io le torce non me le prendo e vi spiego io perché perché ragazzi se noi facciamo perché questa serie sarà molto ma molto lunga se noi metti caso che facciamo un tunnel per trovargli amanti e ritroviamo le nostre torce ci ricordiamo che siamo stati qui ed è una cosa fighissima ragazzi prendiamoci le coordinate ho perso la mappa non è vera non l'ho persa prendiamoci le coordinate del posto allora x 182 ok me le prendo aspettate un attimo ok ragazzi mi sono preso le coordinate e direi di cambiare di casa ragazzi se non vedete niente non vi preoccupate manco io ci vedo qualcosa ragazzi siamo nella cacca io direi io direi di fare una cosa siccome non voglio aspettare ah e mi sono sfruttato dire questa cosa super importante siccome non voglio aspettare ok che ritorni il giorno perché ragazzi di notte è una cosa davvero impossibile direi di craftarci un belletto perché quando sono andato a prendere la legna c'erano anche delle capre o delle pecore e le chiamo pecora però capra pecore ragazzi sta la differenza perciò metti il letto ce lo craftiamo e gigi gigi cosa non lo so siamo su minecraft non siamo su forterry ma vale pure per minecraft questa cosa ci addormentiamo ed è perfetto vai ci vediamo domani mattina ok ci sono svegliati io direi di distruggere lo spawn e ragazzi andiamo fuori hanno scoperto ora la sembra la una di quelle serie televisivi tipo real non aspevo così ma quella se quel canale realtà in tipo vabbè la roba del genere o real tv è la stessa cosa non è la stessa cosa però ragazzi il giorno guarda di abbastanza di chi per regali abbastanza di raga ma non potete capire che cacchio mi sono fatto addosso vado a pulire il culo e ci vediamo dopo ma comunque a parte gli scherzi voglio vedere una cosa avete presente il quel creeper di merda ma io in questa serie dico molte parolacce non so il perché però mi sa che questa serie farà un po schifo vediamo dove potremmo andare non me non importa più di quel creeper tanto ragazzi anche se ci esplodeva il creeper ci abbiamo l'armatura lo scudo ragazzi più forti di così non possiamo siccome ragazzi ci stanno ok raga non ci abbiamo una barca io direi di andare a nuoto ragazzi di così gg cosa ragazzi avevo trovato un relitto e questo è figo e questo è figo ragazzi poi ci andremo a vedere vediamo questi solita vediamo un po come che cos'è va a finire che ci potremmo accampare in questi soliti però dopo andiamo a vedere il relitto immediatamente io vedo del ghiaccio perciò ragazzi penso che il nostro mondo sarà pieno di ghiaccio il che ragazzi diciamo che secondo me è un po' una sfortuna perché ci impedirà di modo capito non è un mondo fighissimo se è tutto ghiaccio va bene il ghiaccio ci sta gg però troppo no e ragazzi che caccia sta cosa cosa è no ragazzi faccio uno screenshot e copertina del video ok raga ma vi rendete conto che cosa abbiamo abbiamo trovato due relitti e poi quello è il deserto si cavolo si cavolo il nostro mondo non è pieno di sabbia si cavolo adesso dice di esplorare il relitto cacchio però sembra mezzo come c'è finita questa volta non lo so ci saranno c'è una cesta e ragazzi voglio un botto di mi piace perché partiamo alla grandissima ci abbiamo queste pepe le patate di ferro no pepite di ferro scusatemi sono i pigmenti tipo una roba uomini maiale ragazzi incominciamo con un bello smeraldo ragazzi e ragazzi incominciamo con il marketing dei villageri e comunque se ho preso le petite le petite duro e quelle di e quelle di ferro perché ci possiamo trattare i lingotti ragazzi optifine non così quanto è fico voglio un botto di like ragazzi quanti like sto chiedendo per questo video tipo 10 minuti c'è un lupo c'è un lupetto c'è un lupetto c'è un lupetto c'è un lupetto allora io direi di andare a controllare qui sotto è un casino cosa mi sono glitchato molto male sembra non esserci niente invece cos'è questa ragazzi ragazzi che cos'è mappa del tesoro a stag 1 hashtag cosa è questa ragazzi voglio un botto ragazzi è fichissimo ragazzi un giorno vi porterò questa mappa e spero di non perderla ragazzi non so quale sarà il nome del video all'inizio pensavo troviamo un relitto una roba del genere e invece tartarughe marine ragazzi cosa sta accadendo in questo secondo episodio devo interrompere l'episodio assolutamente e farne il terzo ragazzi da quello che so loro possono fare delle tartarughe e delle uova e noi le dobbiamo proprio proteggere però non stanno incinte o roba del genere ragazzi è una ficata ci vogliamo rendere conto di cosa stiamo scoprendo io direi di andare verso quella zona lì perché secondo me questa isola non è tanto buona per accamparsi sì che ci abbiamo una nave ok gg per la nave ci abbiamo anche della fauna perché guardate quanti animali stanno qui intorno però io direi di andare a vedere un po' più là quanto è figo ragazzi quanto è figo abbiamo trovato ragazzi ce ne vuole ce ne vuole comunque ragazzi all'inizio del vi ricordate all'inizio che era uscita la 1.13 si nuotava molto più velocemente adesso si fa un po' cadere vai lentissimo è troppo figo comunque ragazzi è troppo figo minecraft i cuccioli di tartarughe ragazzi è fighissimo ah io direi che questo qua è un posto buono per accamparsi anche se non so quella è la savana ragazzi vi ricordate la miniserie che ho fatto su minecraft nella savana poi ci andiamo a controllare pure di là raga sento lo scheletro raga sento lo scheletro facciami pillar vabbè i pillar stavo per cascare vabbè scopo allora io comunque non ancora riesco a trovare le uova di tartaruga è scandalosa come cosa cos'è questo ragazzi vorrei una oh c'è una domanda questa che cos'è questa cosa comunque ragazzi se vedete che non ammazzo vabbè le pecore e perché io le voglio bene diciamo che ci tengo a questo mondo e che comunque ragazzi io direi che già possiamo interrompere l'episodio qui ma io non lo farò perché mi sto divertendo un sacco e ragazzi io direi che sarebbe un posto perfetto per accamparsi bisogna fare solo un po' di dis... checchio è? oh no disinfestazione disinfestazione oh ma mi sto cacando in mano porco vabbè direi di fare solo... vabbè come si dice quando si devono tagliare gli altri vabbè disboscazione vabbè la roba del genere ok non mi viene il nome e poi ragazzi ci si può accappare però io voglio andare a vedere la savana voglio andare a vedere la savana ah è perfetto ragazzi vi ricordate gli squid? mochi se li cacca più appena era uscito minecraft no aspetta quando tipo prima della 1.3 gli squid venivano un po' calcolati perché comunque erano era l'unica presenza in mar mochi se li caccavano vai gg per noi comunque ragazzi sono stra mega contento cercherò di non morire in questo episodio perché vabbè che è quasi finito però cercherò di non morire perché raga abbiamo preso delle cose troppo belle e troppo importanti per la serie e ragazzi io direi aspetta voi mi state dicendo una cosa del genere che ragazzi ci sta la savana ok e subito slash deserto e di 5 cm a fianco c'è il biomagliacciato ma che cacchio di formazioni ha questo mondo ragazzi questo qua questo mondo fa un po' cos'è quello? cos'è quella presenza? ragazzi il mio mondo è infiustato cosa? cacchio è quello? allora io non posso più correre alghe io non posso correre cacchio però io ho visto una cosa che non mi piace io ma no era un mondo secondo me erano i zombie ah no erano i zombie dell'acqua tipo una roba del genere vabbè gg per l'ora è che da quello che so possono dare il tridente di Poseidone beh il tridente non è di Poseidone cacchio il Poseidone è morto cacchio volete la Poseidone ragazzi io direi vedendo gli iceberg aspettate che ci arrivino perché ho fame ma che mondo di merda ragazzi siamo circondati da iceberg uno la uno la poi la sono tutti arcipela e ma e oceano e ragazzi siamo che bioma di merda no che bioma che mondo se no ce lo devo fare nelle isole la va bene ma io direi di concludere il video qui lasciatelo se vi è piaciuto iscrivetevi al canale attivate la campanella ve lo ponete tutto ah e inoltre fatemi sapere nei commenti dove volete in questo caso vi faccio un sondaggio in alto a destra dove volete il che ci facciamo il la casa nel deserto e ghiaccio bioma ghiacciato oppure nel nelle isole ragazzi il sonno in giro non so se ve lo lascio penso di no però scrivetemelo sotto nei commenti dell'opinione di tutto ciao ciao